Servizio giocatore 1 15-0 30-0 40-0 45-0 45-0 45-0 48-0 48-0 48-0 48-0 49-50 49-50 49-50 40 41 15-0 15 pari 30-15 30-15 30-40 30-15 30-15 30-15 30-15 30-15 40-30 41-15 40-31 42-15 42-15 45-45 45-45 46-46 Vantaggio giocatore 1, giocatore 3. Gioco 6, giocatore 1, giocatore 3. Servizio, 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 giocatore 4. Servizio, giocatore 3. Trenta, quaranta. Gioco Kuznetsova, giocatore due. Servizio, giocatore due. Zero, quindici. Zero, trenta. Zero, quaranta. Gioco, giocatore uno, giocatore tre. Servizio, giocatore uno. Quindici, zero. Quindici, pari. ifferizio, giocatore due. Tentale due. 30 attenti. 5 attenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giocatore 3 Grazie a tutti.